Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Prima di cominciare una piccola novità. Abbiamo aperto un canale Instagram e trovate il link in descrizione. Mi raccomando seguiteci e troverete tutti i quadri di Alberto. Iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video e buona visione! Undicesimo quadro. La virtù. Francamente, questo personaggio mi ci riconosco. Cos'è la virtù? Boh, non lo so neanche io. Per qualcuno è qualcosa, per qualcun altro è qualcos'altro. Non ha saputo, ho fatto un quadro senza sapere come rappresentarlo. Questa è anche una bella sfida, no? Se non vi pare. In ogni caso l'argomento rimane, sia chiaro. Tutto sui toni azzurri. C'è il solito personaggio pelato, non è un uomo, è il simbolo dell'essere umano. Allarga le braccia, sconsolato, come per dire. Potrebbe essere questa cosa, ma potrebbe essere anche qualissiasi altra cosa. Allarga le braccia, sconsolato, come per dire.